4 giorni di masterclass per 24 direttori di coro e 10 cantanti con maestri italiani e stranieri ad Arezzo grazie all'impegno delle associazioni insieme vocale vox cordis e UT insieme vocale consonanti questa accademia corale è ormai una bella realtà non soltanto ad Arezzo ma sviluppa ormai progetti in tutta Italia da Arezzo si è sviluppata in varie parti d'Italia, quest'anno l'abbiamo realizzata in Valle d'Aosta, a Fano, in Lombardia andremo a fine agosto in Valtellina e però il fulcro rimane ad Arezzo abbiamo due importanti docenti, uno dalla Norvegia e un'altra docente slovena che sono tra i più importanti direttori di coro al mondo Ragnar Rasmussen viene da Trondheim, è riconosciuto come uno dei più importanti direttori di coro al mondo e Urshala è una delle donne più famose a livello di direzione di coro quindi siamo contentissimi di avere loro due in più abbiamo Lia Serafini, insegnante di canto per una masterclass anche di canto e di tecnica vocale a chiudere la quattro giorni un concerto finale della masterclass nella chiesa di San Michele con un programma lungo, articolato che va dal rinascimento fino alla musica dei nostri giorni quindi siamo molto soddisfatti anche perché i due gruppi Vox Cordis e Uth sono gruppi straordinari con cui poter studiare e fare musica assieme e a puna sa deserbe a nascut Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!